Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi proverò a risolvere due cubi nuovi, il 2x2 e il 4x4, in più proverò a battere il mio record nel 3x3. Iniziamo dal 2x2, bello scombinato e si parte! Ok, abbiamo risolto il 2x2, adesso passiamo al 4x4, più difficile ma ce la farò, via! Grazie a tutti! 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 Se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, ciao ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!